Ciao, oggi parliamo di dermobiotica. Ma che cos'è il dermobiota? È il microbiota cutaneo, quindi tutto l'insieme di quei batteri, virus, funghi, acari che vivono in simbiosi con la nostra pelle e sulla nostra pelle. Sono così importanti che addirittura possono influenzare il nostro sistema immunitario, sono così importanti che proprio per il benessere, la salute della nostra pelle quando vivono in equilibrio con noi. Ecco, da tutto questo nasce una linea specifica proprio per il riequilibrio del dermobiota. In modo particolare il focus va sull'idratazione della pelle, sul mantenerla proprio in equilibrio con il suo dermobiota cutaneo, nel portare nutrimento e proprio nel riequilibrio del fiume idrolipidico e del pH. Da questo sono nati due prodotti, il primo è la Hydrobiotic Mousse Detergente e il secondo è la Neroli Essence, una lozione specifica per la pelle del viso ma non solo del viso, proprio per idratare e mantenere in equilibrio il microbiota cutaneo. Andiamoli a vedere un po' più in dettaglio. L'Hydrobiotic Mousse è una mousse detergente che strucca anche molto bene, che viene massaggiata sul viso mattina e sera per andare ad asportare le impurità, il trucco, tutto l'inquinamento, il sebo, quindi tutto quello che alla nostra pelle non fa bene e va a rimuovere quindi soltanto ciò che non serve, va ad apportare idratazione, va ad apportare dei prebiotici grazie all'inulina e dei postbiotici grazie a dei derivati fermentati dell'avena che hanno proprio un'azione idratante, ristrutturante per la pelle e l'aiuta proprio a ritrovare il suo benessere, aiuta anche per le pelli più delicate, arrossate e è semplicissima da utilizzare, basta un puff di mousse direttamente sulla mano che può essere asciutta o bagnata e poi massaggiata sul viso insieme a dell'acqua in modo da rinnovare sempre il tensioattivo vegetale che contiene, inoltre contiene anche NMF vegetale che ha un'azione proprio idratante per la nostra pelle. Andiamo a fare la prova di quanto strucca bene la Hydrobiotic Mousse, vado a prendere una matita per gli occhi nera, vado a prendere un rossetto e poi andiamo a utilizzare un po' della nostra mousse. Come vedete sembra proprio panna montata e sofficissima, morbidissima e vediamo che sta andando proprio a sciogliere il nostro make up, semplicemente con l'utilizzo di un dito. L'ideale poi è andare a bagnare la nostra mano per andare appunto a rinnovare i tensioattivi, per andare a muovere questa mousse, a rinnovarla e quindi a sciogliere sempre meglio il nostro make up. Adesso io la toglierò con una velina ed ecco qua la mano è perfettamente pulita e anche molto molto morbida, non è assolutamente appiccicosa, chiaramente io adesso la dovrei sciacquare con acqua. E adesso passiamo alla Neroli Essence. La Neroli Essence è un prodotto veramente unico e molto speciale. È un prodotto a base di postbiotici derivati dall'avena, fermentata da batteri specifici, da mucillagini di malva, da NMF vegetale che contiene per esempio la glicina, il sodium pca, il pantenolo, quindi tutto quello che serve per andare a idratare in profondità la nostra pelle ed è molto utile in tantissimi casi. Primo ogni volta che abbiamo bisogno di riequilibrare la nostra pelle, anche le pelli impure, in quanto questi derivati dell'avena in particolar modo vanno a lavorare anche sul cutibacterium acnes, detto una volta veniva chiamato il propionibacterium, ha cambiato nome ma è sempre lui, una delle cause dell'acne. Quindi aiuta a riequilibrare il microbiota andando a sfavorire la crescita di questo battere. Ancora è molto adatta per le pelli secche, molto disidratate, perché apporta appunto NMF vegetale, va a portare questi derivati dell'avena che hanno un'azione idratante e molto lenitiva nei confronti della pelle. È molto adatta quando si fanno dei trattamenti importanti al viso, come per esempio trattamenti agli acidi, laser, trattamenti dermoestetici, comunque dei trattamenti che possono andare a squilibrare la nostra pelle, sia dal punto di vista del pH ma anche del microbiota. E quindi va a portare proprio non solo quell'idratazione, ma anche quelle sostanze che aiutano a riparare la pelle, perché contiene per esempio anche la centella asiatica, chiamata erba della tigre, perché si vedevano le tigre che si rotolavano in questa erba per cicatrizzare le loro ferite. Quindi questa pianta è molto adatta anche per aiutare la pelle a cicatrizzare ed è molto adatta quindi per rigenerare la pelle dopo certi tipi di trattamenti. La Neroli Essence può essere utilizzata sul viso ma anche su parti del corpo che necessitano di essere riequilibrate, per esempio anche dopo una ceretta, quando c'è un'irritazione per esempio da raggi del sole oppure un eritema, una scottatura, semplicemente un arrossamento della pelle, quindi adatta proprio anche alle pelli più delicate e più sensibili. Ma che cos'è una Essence? La Essence trae il suo nome e un po' il suo scopo dalla beauty routine coreana, in cui si prevedono vari step dopo la detersione abbiamo la tonificazione, abbiamo la Essence e poi un siero. Il tonico ha un'azione solitamente riequilibrante e idratante e per esempio si possono utilizzare dei tonici con acido ialuronico o anche degli idrolati puri di rosa o di lavanda in modo da andare a per esempio una pelle irritata. La Essence va a lavorare più in profondità sul riequilibrio della pelle, in questo caso la Neroli Essence va proprio a lavorare sul microbiota cutaneo, quindi mi va a riequilibrare tutta la popolazione che deve vivere in equilibrio sulla nostra pelle, in equilibrio con noi. Dopodiché si può passare anche a un siero specifico per un problema ben determinato della pelle, come per esempio una cuprose in cui andrà a utilizzare per esempio il siero booster pelli sensibili che ha degli attivi più specifici proprio per il problema cuprose. Però la Essence può essere utilizzata anche come prodotto unico, quindi dopo la detersione semplicemente si fa il riequilibrio perché è un riequilibrio molto profondo della pelle e poi si passerà alla crema. In una pelle magari particolarmente impura è sufficiente anche solo la Neroli Essence, oppure d'estate quando fa anche molto caldo o in pelli che comunque tendono a buttare fuori le creme o a sudare molto. E questo riequilibrio perché è così importante? Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche di una linea dermobiotica, perché è importante fare questo tipo di trattamento, in quali casi? Il trattamento con una linea dermobiotica diventa importantissimo per tutte le pelli sensibili che si irritano, in pelli per esempio di pazienti oncologici che stanno facendo dei trattamenti importanti in cui ci può essere una grande reattività e una grande sensibilità della pelle. È molto adatta quando si fanno dei trattamenti estetici per esempio come gli acidi della frutta o per esempio dei trattamenti anche come il needling o dei trattamenti del medico estetico per esempio anche del laser o dei trattamenti con acidi ma molto forti. Quindi tutti in quei casi in cui si ha dopo uno squilibrio della pelle in cui si necessita una rigenerazione e proprio un riequilibrio fisiologico della nostra pelle. Quindi anche una pelle secca, anche una pelle grassa, anche una pelle con acne può trovare un grande aggiovamento nel trattamento con una linea dermobiotica. Dopodiché si andrà poi a scegliere la crema più specifica per il proprio tipo di pelle ma questo è un trattamento che veramente va bene per tutti i tipi di pelli. Nella linea dermobiotica composta dalla mousse e dalla Nero Liesens abbiamo voluto fare anche il formato mini taglia che diventa molto pratico anche da portarsi in viaggio anche per un weekend o alcuni giorni e può essere anche un modo per provare la linea soprattutto in un transito per esempio tra una cosmesi chiamiamola più tradizionale magari a base di siliconi, petrolati o magari a base di prodotti che non erano adatti per la nostra pelle ha invece un prodotto più naturale e biodisponibile per la nostra pelle quindi più bioattivo. Quindi in questo caso possiamo utilizzare una mousse in formato mini taglia e la Nero Liesens sempre in formato mini taglia in modo da poterli portare sempre con noi. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.